saluto a tutti ragazzi da mario inter allora ragazzi volevo fare subito questo video innanzitutto per salutare a tutti quanti poi volevo parlare subito di inter juve e milan ma prima di parlare di queste tre grandi squadre voglio voglio dire una cosa a quelli lì dalla radio international vergognatevi come cazzo fate a curare la morte a una squadra vergognatevi anzi fate una cosa cagatevi nelle mani e prendetevi a schiaffi provateci e andate questa sera vi cagate nelle mani e vi prendete a schiaffi io non lo farei mai però voi visto che avete detto quella grande cazzata perché una grande cazzata fatelo perché è questo quello che vi meritate secondo me allora ragazzi subito capitolo inter si parla di belotti belotti qua belotti là una domanda dove io vorrei anche una risposta nei miei commenti voi preferite più belotti o i cardi è una domanda io voglio solo sapere la vostra risposta l'unica cosa che vi posso dire io è che se i cardi vuole rimanere all'inter per me la fascia di capitano se la deve scordare se la deve proprio scordare al volo perché per me non è un capitano e non è nemmeno una brava persona io lo so poi ragazzi un'altra cosa capitolo chiuso i cardi belotti io voglio sapere solo la vostra risposta qua sopra sta a come si è capito sta per arrivare le l'oreali non vedo l'ora io sono veramente l'uomo più felice se vedo finalmente le l'oreali di nuovo dirigente dell'inter perché a noi e dico a noi serve uno che mette un po di ordine in questa società perché è impossibile che loro stavano andando a prendere a mi hailovic o a mi hailovic ma non è arrivato sabatino mamma mia mamma quando io vedo che arriva le l'oreali vado a me giugorio dalla madonna e dico grazie madonna mia grazie che tu sia benedetta perché guarda veramente non ce la faccio più con ausilio non ce la faccio più chiuso capitolo inter facciamo un video breve se no poi troppo fa stufa ragazzi capitolo milan tolisso morata che si è innanzitutto che si è quanti cazzo di anni ha si dice che del 91 invece non è invece del 96 ma non è che è fatta la fine di tarippo west no e siamo lì comunque il tarippo west così ha fatto comunque a me che sia un giocatore che mi piace un bel centrocampista potenza potenza fisica insomma sa calciare molto bene alla palla è uno che ha anche visibilità nel gioco insomma veramente completo io a me piace un casino poi quello che dicono gli altri a me non mi interessa io vedo il mio perché visto che io al calcio c'ho pure un po giocata a me sembra uno che sa giocare ed è già milanello mentre noi invece non sappiamo nemmeno che il nostro allenatore morata sarebbe un ottimo colpo per tutti morata sarebbe un ottimo colpo per tutti tolisso sai in francia giocare con il montpellier le avre queste squadette qui non lo so se vengono in italia e vanno a giocare a napoli se stanno giocare mistero capitolo milan chiuso juve guarda veramente secondo me questi qui sono concentrati al massimo non vola una mosca cioè questo è quando c'è una grande dirigenza sotto secondo me se come li stanno bacchettando tutti quanti si agli ordini si la mattina alle 6 tutti a correre si agli ordini mamma mia comunque ragazzi niente la partita di cardiff secondo me sarà molto difficile perché real madrid ha giocatori che possono anche fare la differenza ma la juve c'è il real madrid è una squadra di che il singolo può fare la differenza mentre la juve è un gruppo io sono del parere che nel calcio il gruppo ha sempre vinto e poi buh non lo so le loriari ritorna all'inter ti prego e sta per ragazzi è quasi ufficiale quasi ufficiale quattro salti in padelli del torino quattro salti nel vero senza la parola in padelli sta per arrivare all'inter il terzo il secondo portiere del del torino che se ne frega ma che cazzo se ne frega ragazzi un saluto a tutto a tutto a tutti vi invito a scrivervi alla mia pagina youtube mario inter vi invito a mettere mi piace alla mia pagina facebook mario inter youtuber ragazzi ho fatto un po oggi veloce ho parlato un po di tutte e tre le squadre voglio sapere la risposta i cardio belotti ha un'altra risposta ragazzi secondo voi chi la vince la champions risposta secca è un'altra cosa ragazzi iscriviti al canale ciao